...liscio, mi dè, per dire, no, con gli occhi chiusi, ma ho fatto tutto, con gli organismi... ...certo, questi sono tutti, sono i denti, queste cose... ...e poi io prendi forma, non lo prendiamo... ...un singolo filoderma che ti tocca... ...da, da, 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 c'è la densità... ...è vero? ...e provate l'altra... ...che questa è semplice, mi sembra che anche... ...i noi siamo persi, no, un gioco meraviglio. …vedi, ci arrivate... ...danno la pazza, l'ho scoperto, l'era pronta a questo... ...un campo con le arature, no? ...sabinando... A vero, a vedere che io lo sentito, sentivo quello di segno geometrico... ...che, chiaro, per campo. ...sabinando sui... ...i che metti introdurre? ...io lo sentivo... ...sono! Poi vieni giù e senti, sono dei figli e cittadini. Signori, non siete nel bosco, è vero? Signori, non sei nel bosco, è vero? Questa stessa cosa. Questa stessa cosa. In generazione conosco un cosa? Giulio Cinelli. Ah, non lo conosco. Che ha aperto un studio web a Crosseto che si chiama Piano Web, perché lui è nato piano solo. Ah. Un sito di pianoforte.